Allora siamo a Larghe Alp, giornate di emozioni, sentiamo subito la voce dei primi protagonisti, come andrà oggi? Dai P, lascia il microfono un attimo, fai anche te una gara d'orientamento finalmente Ehi, cosa è successo? Va bene, ti sfido Eccomi, il mio debutto Tac, 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 che inscioltezza? Ah, passaggio spettacolo, qua dovrei fare qualcosa Ah, vedo un punto di ristoro Ciao 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 Sì, vogliamo veramente vincere con San Carlo, abbiamo fatto questo prima, ma è difficile perché Ticino e altri, Trentino, sono molto buoni Un minuto, l'anno scorso sono arrivati i secondi loro, abbiamo vinto noi e quest'anno abbiamo fatto il contrario Eccoci qua al traguardo della staffetta della Larghe Alp, abbiamo qualche problema per chiudere questo bellissimo servizio Non troviamo più Pietro e non troviamo più Pietro e Larghetti Pietro! 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 Grazie a tutti.